Lascia il microfono a Vlado Io voglio dire solo due cose veramente semplici Io voglio dire grazie a tutti voi per rimanere con noi in ogni partita, in ogni momento sempre e io e io ho detto già che almeno 20% di nostro successo è merito vostro grazie a tutti